e benvenuti in questo nuovo video come no oggi è il 9 febbraio e sono le 4.24 io volevo fare un tiktok ma dovevo iniziare il vlog e quindi lo faccio dopo abbiamo delle commissioni da fare poi gli devo andare il poppy volevamo portarvi con noi la mamma sta andando in lavanderia in lavanderia quella la e io sono qua ad aspettarla praticamente io devo essere il poppy alle 6 da essere sette e mezza sono le 4.35 e praticamente c'è allora volevo dirvi di seguirci su tutti i social su instagram seguire me mi chiamo unicorna tattino basso queen non so perché ho sto nome però così tanto per perché visto che instagram me l'ho ristallato poi me lo sono ristallato e poi non mi ricordavo più le cose del profilo allora me lo sono ristallato mi ha guardato malissimo mi ha guardato malissimo è quello lì comunque perché ci possiamo mettere un appunto di michele ci sono altri non so perché e quindi dice non puoi mettere allora su tiktok mi chiamo giorgia tre puntini di sospensione gd non so perché ma mi metto nomi strani poi dovete seguire anche mia mamma che su tiktok si chiama silvia chiavetta tutto attaccato e su instagram si chiama the big family poi otto sei due cose così comunque vi lasciamo tutto qui giù nella lupa box così almeno potete essere sicuri e poterci andare a seguire la mamma è arrivata è lì mi sono proventata ho sentito dei rumori da lì perché passa la gente tanto che io ho caricato la spesa sulla macchina ce n'è un po anche qui che è la nostra merenda e giorgia è andata fino là da ua ua a prendere le penne cancellabili per gabriere e sabrina ho preso le penne per gabriere e sabrina come viaggio detto mia mamma e ho speso 7 euro e 20 ed è proprio questo due penne verde eccomi siamo siamo tornati nella madera perché la mamma deve ritirare la roba che ha messo prima sono le 5 e 37 si sono il telefono così perché è inutile di sforma energetico già all 85 così almeno non si spreca tutta la batteria e dopo un po devo andare i pop ma stiamo cercando di farvi veloce perché chiesto a mia mamma si poteva fare sotto i portici di pop cioè prima di entrare c'è una signora che mi guarda male ma tanto ormai ci sono abituata mi hanno già guardato male quella volta nel vlog che se non l'avete ancora visto dovete assolutamente andarlo a vedere è nel nostro canale vabbè e poi mi hanno guardato male prima e di nuovo adesso si divertono a guardarmi male ok vabbè farò un tiktok della shuffle poi se riesco riesco ecco la di quella che mi guarda male poi se riesco vi faccio del risultato non sono andando brava a fare la shuffle però volevo farlo aspettate che se riesco vi faccio sentire la canzone che io ho scelto perché praticamente me la sto salvata tra le bozze questo qui è il sound che voglio usare mi piace tantissimo ma volevo farlo voglio far vedere un tiktok questo qui che vi è piaciuto tantissimo non si vede non si vede non si vede siamo arrivati ai pop giorgia sta facendo un tiktok e andiamo a vedere come è venuto sembra arrivati ai pop o cosa pubblichi Non giocare anche anche come la regina vince sul re. Nella casa di carta. Andiamo. Ho appena finito di fare le prove per il concorso a cui parteciperete anche voi per il 24 marzo. E adesso stiamo andando a casa a cenare. Sì. Adesso andiamo a casa a cenare. Speriamo che il vlog vi sia piaciuto. Se è così lasciate un like e iscrivetevi al canale. Ciao. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti.